Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel quarto episodio di Brawl Stars, siamo qua oggi con Diego Allora, questa è la prima collaborazione del mio canale con Digo Andate sul suo canale che lo pubblicizzo in ogni video, lui non lo fa ed è nabbo Oggi potrò aprire quattro casse perché i gettoni qua, come può vedere Diego, ne ho 150 e quindi gettoni da poter sperare E quindi 150 e possiamo aprire quattro casse Comunque Allora, ragazzi, l'ha fatta partire anche Diego o Goku Gamer, come preferite, la registrazione E quindi, senza perdere chiacchiere, startiamo la partita Ah no, per carità, raffaggiamo, l'ho detto in tutti i video, è la mia modalità che odio di più Infatti, a raffaggiamo in una delle modalità più brutte, io mi rubo la po' sedia Non è vero, è una scheda normalissima da compiuto, ce l'ho io quella che è un'unica Che velocità, siamo già due power up Se mi viene ad aiutare, c'è un problema in modalità, perché c'è una squadra Ok, uno uccisa Oh no, per carità Corri, corri, prima che si rigea il freddo Vabbè Eeeh, quattro, tre, due, uno, e eccomi Oggi siamo andati in chiesa Vi dico questo bel fatto che c'è oggi Siamo andati in chiesa Ma com'è possibile, abbiamo fatto secondi? Vi devo raccontare questo aneddoto che è successo oggi Ci hanno fatto poi delle candele Delle candele che abbiamo fatto sabato E praticamente siamo usciti fuori Perché dovevamo uscire fuori per farne bruciare Allora, siamo andati fuori tutti contenti Tutti contenti, pensando che non accadesse niente In verità io e Diego avevamo No, faccio dire In verità io e Diego eravamo già sospettosi Abbiamo Gokugamer due, che l'hanno già detto Io e Gokugamer eravamo già sospettosi Che ci brucavamo E noi due C'è andata la cera Fudita Chi è sto? Sì, ma no, poco È il mille È È il mille Che ha le ho dite? Bu, ma io l'ho uccita Uno, ok Mi raccomando passate anche sui candele Mi raccomando passate sul canale Zilion Zilion È uno degli youtuber più belli per noi E' uno degli youtuber più belli per noi E' uno degli zilla quel coso strambo Quel gorilla della webiste E' anche Darren McZain Poi stiamo facendo pubblicità gli youtuber Per se poi non c'ho comunque in play Con loro Noi siamo molto contenti Perché Secondo me? Sì, perché Io voglio aprirlo Io poi quando sarò più grande Mi cantifico Vabbè Comunque Che stavo dicendo? E' la risgossa E' la risgossa Almeno quanto mi ha dato Più 6, vero? Più 4 No, più 4 Che è sta mafia? Sì, un'altra bella cassina Che sboccia Ah, perché io sono 3, 2, 5 Però noi comunque oggi sbloc... Cioè, a prescindere che non troviamo niente... Che io A prescindere che non trovo niente dalle catture Sarebbe... Sarebbe... Oggi lo sblocchi Allora Facciamo un altro po' di partite Speriamo che tutte e due Facciamo un po' di tagli Per... Per... Dopo Faremo un taglio dopo Perché Vogliamo arrivare tutte e due Allo brawler Perché se... Perché sicuramente non lo troveremo oggi Però Se lo troviamo Ne abbiamo due Sopra e io sotto Io non ce l'ho rosa No, no, per caso Anche Penny Se volete vedere io che sblocco Penny Dovete passare sul canale di SbloccoGamer Cioè Eh, perché il corticcio non è dimenticato 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 Perché questi mi hanno devastato La maremma Cos'è fa? 11... 10... Corri! Sì Un prosciutto No, no L'ha detto Lion Un pro? Ma di pro C'è solo il prosciutto Capito? Un pro Un pro Un bombardino scemo Un pro Ma allora Quelli che hanno visto Con gli occhi più Eh Ho visto Quelli con gli occhi più attenti Hanno visto che ero le nostre quattro sogno di vita Aspetta Aspetta il gorilla delle ametiste ma siccome se il signorezzo è vero o parte? eh? come è possibile? anche secondo me è vero però non mi chiedo perchè perchè il maschio del codigo il maschio del codigo vabbè il maschio del codigo codigo significa che avevo già ok c'avevo 50 di vita non abbiamo perso vabbè non è che abbiamo perso siamo arrivati i secondi se non sentite molto dire voi perchè io sto su una serie dell'istaco in divano quindi vabbè comunque adesso faremo un piccolo taglio e poi vi faremo poi vi faremo vedere il nostro rischio allora allora ragazzi le abbiamo sbloccate tutte e due e io ho sbloccato anche un'altra cassa invece lui no allora facciamo l'ultimo stacchettamento prendiamoci a lei ok ok apriamoci le cassette ha caricato perchè devi prima prendere la cassa l'ultimo stacchettamento e il donato di jazzo game sia l'estima davvero un pronto avuto a destra ok vediamoci 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 uuuuuh uuuuuh all'inizio che quando trovo un nuovo bluwer devo provarlo quindi vai metti pronto metti un altro bluwer che hai trovato da poco io non metto per rottarlo intanto io vi faccio vedere penny non l'ho visto andate a vedere sul canale goku gamer intanto vedete i messaggi tanto bene i nostri amici andate a vedere sul canale goku gamer perché la nel suo non so aia mi stai buttando il piede tu sai dove penny è un brawler e vabbè no a meno penny è un blu è un brawler molto molto sotto secondo me però difficilissimo da usare perché devi sfruttare bene tutte le sue abilità perché sono tante quindi vai ok abbiamo distrutta ok uccidi quel beryl torretta 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 forever non ci credo ve l'ho detto ve l'ho detto ve l'ho detto è molto forte la torretta non ci credo per via della torretta per via della torretta per via della torretta iscrivetevi, commentate e mettetevi in mi piace e ai prossimi ai prossimi quanti mi piace 5 mi piace no io ne sto iniziando a dare già 10 7 8 mi piace faremo un altro video in compagnia ma comunque lo faremo in compagnia perchè 8 mi piace sono un po' troppo però comunque da goku gamer e lori è tutto e noi ci salutiamo